Con Mr. Buccaro in postazione con noi, intanto prima di parlare della partita se ci vuole dire qualcosa di Mr. Zeman e vuole mandare un messaggio, come sta il mister? Sicuramente il mister sta molto meglio, penso che a fine settimana dovrebbe uscire, ha bisogno solamente un po' di riposo, però la situazione è buona, quindi sta bene, ha visto la partita, abbiamo parlato fino a cento. Non era contento della prestazione della squadra, tranne la prima mezz'ora, poi abbiamo giocato poco, non siamo stati più aggressivi come lo siamo stati all'inizio e quindi abbiamo dato la possibilità al Catania di venirci dentro, gli abbiamo fatto prendere coraggio, hanno giocatori importanti e abbiamo perso anche per questo motivo. Prima di analizzare la partita le volevo chiedere se ci poteva dire qualcosa sulle condizioni di Pellacani. Non lo sappiamo, ha sentito un po' la stessa cosa che ha sentito Assestri, non dovrebbe essere nulla di grave, ha sentito un po' il ginocchio andare in estensione, ora vedremo domani, dopodomani quando rientriamo a Pescara. La paura o più il problema? Ma secondo me non è un problema grave, però sicuramente qualcosina ha sentito al ginocchio e ripeto è da valutare, adesso a caldo è difficile capire cosa abbia avuto. La partita, primo tempo, prima mezz'ora come diceva Zeman, del solito Pescara, quello visto nelle ultime settimane, poi la mia interpretazione è che il Pescara ha sofferto forse le troppe partite ravvicinate e giocate, ha avuto un chiaro calo fisico nel secondo tempo, è d'accordo? Ma io sul calo fisico non sono d'accordo, ma non perché ci può anche stare quando giochi ravvicinati, ma noi siamo preparati bene, possiamo giocare le partite ogni tre giorni. Secondo me abbiamo un po' smesso di fare il nostro gioco, di cercare di andare a prendere alti loro, ci siamo abbassati un po' troppo, abbiamo giocato sempre dietro, noi non siamo costruiti per questo. Quindi quando non facciamo quello che dobbiamo fare diventiamo vulnerabili come magari lo siamo stati un periodo fa quando abbiamo avuto qualche sconfitta di troppo e oggi, ripeto, dopo la prima mezz'ora poi abbiamo fatto troppo poco per essere il Pescara. Torno un attimo sull'infermeria prima di altre considerazioni, poi c'è l'auricolare, quindi Massimo Profeta da studio le farà le domande. Ci può dire se Brosco nell'eventualità non dovesse farcela per la cani a disposizione o giocheranno due mancini, Mesic di Pasquale domenica? Penso che Brosco non è nulla di grave, è rimasto a casa perché non stava benissimo, però penso che per domenica dovrebbe recuperare. Però è una cosa da valutare, lui è rimasto a Pescara, quindi noi rientreremo domani sera, poi venerdì capiremo un po' meglio la situazione. L'ultima da parte mia, nel secondo tempo anche un Pescara senza Loi, si è vista la differenza, ma soprattutto Pierno spostato a sinistra ha sofferto a trovare la posizione. Perché Pierno e non Moruzzi? La scelta è stata fatta su Pierno perché comunque lui ha tutti e due i piedi, gioca sia col destro che col sinistro, Moruzzi ha fatto bene in passato, però è stata fatta questa scelta, volevamo vedere Pierno anche di là come se la cavasse. Non ha fatto benissimo, però come non hanno fatto bene i suoi compagni. Come non ha fatto bene il Pescara nel secondo tempo. Massimo Profeta per il tecnico Bucaro. Sì, infatti sono d'accordo, buonasera Bucaro, anche perché Pierno anche nella Virtus Farcavilla ha giocato spesso sulla corsia Mancina. Ecco, io ho sintetizzato, è stata una partita sostanzialmente a due facce, perché il Pescara nel primo tempo, nei primi 30-35 minuti, io l'ho visto con ritmo, idee, anche con una fase in un possesso molto equilibrata, insomma un Pescara ordinato. Ecco, nella ripresa forse, come diceva lei, prevedibile, no? Sì, siamo stati prevedibili, questo è vero, anche se non stavamo subendo tanto, abbiamo subito un gol poi su calcio piazzato, non è che stavamo subendo, però non stavamo giocando. Non è nelle nostre corde, quando noi smettiamo di giocare, non siamo veloci, non giochiamo la palla a due tocchi, poi diventiamo prevedibili. Comunque hai di fronte una squadra come il Catania, che ha giocatori molto importanti per la categoria, costruita anche per vincere, se gli da la possibilità di venirti dentro, poi prima o poi ti fanno male. Un'altra domanda Massimo per Bucaro, poi lo salutiamo. No, va benissimo così per me, va benissimo. Allora l'ultima la faccio io al tecnico Bucaro, parliamo un po' di quest'Ancona, che adesso il campionato diventa fondamentale, perché la Coppa Italia era una chance per arrivare sostanzialmente terzi e iniziare nella fase nazionale. Pescara terzo a pari punti con il Perugia, vietato fallire adesso ad Ancona. Che partita si aspetta? No, noi dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo tornare a quattro giorni fa, alla settimana scorsa, quando abbiamo fatto molto bene. Spero che questa partita ci servi un po' da insegnamento, perché nel momento in cui smettiamo di giocare, non facciamo la pressione alta, non giochiamo veloce, non andiamo dentro, senza palla, diventiamo vulnerabili. Quindi ci dobbiamo preparare bene in questi tre giorni, perché comunque Ancona è una partita che dobbiamo andare a fare bene, abbiamo le qualità per farla bene, quindi dobbiamo essere subito pronti, cancellare questa sconfitta e prepararci per domenica prossima.